Iscrivetemelo in chat, benvenuti, benvenuti a Elia Alias, Veronica Thomas Liccia, Laura Starla Piergiorgio, Sara Alessandra Franz, Laura Chiara Batchwolf, Stefania Luigi Erika Jerry e anche Lorena. Buonasera professore, come vanno le correzioni degli esami? Lo staff ha già ricevuto i miei cesti di salumi e formaggi con versione vegetariana per la mia editor, si intende. Buonasera Franz, allora la correzione è cominciata proprio oggi pomeriggio, ho iniziato infatti a dare un'occhiata ai vostri elaborati, voi aspiranti editor, voi ambiziosi aspiranti editor. Ho già bocciato, ho già iniziato le prime bocciature, guardate come sono contento, guardate come sono felice di avervi bocciati. No, non è vero, cioè adesso c'è, è un lavoro più lungo, anche più lungo di quanto avessi immaginato, già immaginavo che lo sarebbe stato e si sta dimostrando ancora più lungo di quello che poi sarà. Però avrete ovviamente indicazione a questo riguardo a tempo debito. Buonasera Leonardo, buonasera Tiziano, siete pochini, immagino che crescerete, perché finora avete sempre fatto così in queste ultime sessioni, come state? Allora, vista la mia permanenza ossessiva in luoghi dell'Italia con una pessima connessione internet, anche questa settimana come vedete faremo un bel Q&A. Lo so che voi vorreste anche fare dell'inediting ogni tanto, ma come vi avevo già annunciato, non sarà possibile farlo almeno fino a quando non tornerò in territori meneghini, in territori dove la connessione permette di supportare questo tipo di attività che non si riescono a fare. Ci ho provato, abbiamo fatto diversi tentativi recentemente con il mio staff, non si riescono a fare nel luogo dove sto passando l'agosto. Comunque, dalla prossima settimana forse e sicuramente da quella successiva riprenderemo anche con queste attività che sappiamo che state aspettando con ansia, anche io mi diverto a fare il line editing perché così posso mazzuolarvi, posso darvi dei consigli, posso anche continuare a darvi delle indicazioni, degli spunti di riflessione che ho visto in questi anni esservi stati davvero tanto tanto d'aiuto. Lo sto vedendo anche, correggendo le prove che quelli di voi che stanno tentando di diventare degli editor hanno fatto. E devo dire che nonostante appunto non sarà possibile promuovere tutti, anzi come sapete io mi aspetto che almeno almeno la metà dei candidati non passeranno al nostro vaglio. In realtà tutto sommato sto già vedendo che anche quelli che non hanno ancora raggiunto la piena sufficienza in realtà sono abbastanza buoni, sarebbero probabilmente già competitivi sul mercato del lavoro dell'editing attualmente. Quindi già questa è una buona cosa però lo sapete che io ci tengo a essere perfezionista. E quindi niente, quindi Q&A anche quest'oggi ma non sarà certo una scelta di ripiego. Infatti abbiamo deciso per questa sera di introdurre un argomento bello, bello ricco, bello carico per questi Q&A che stiamo facendo e per quello di questa sera in modo particolare così che non vi venga nemmeno troppa nostalgia circa l'attività di line editing. Qua fa un caldo pazzesco ma per fortuna che abbiamo l'aria condizionata. Allora, bravi tanto per cominciare, bravi a voi che siete connessi, voi che siete attualmente 37, immagino crescerete ancora, poco fa eravate 22, c'è stato un bel balzo, va bene. Bravi che state sacrificando una anche d'estate i vostri giovedì sera a venire qui a studiare, mantenervi sempre immersi in questi argomenti. Sapete che è una cosa da non sottovalutare, una cosa parecchio impattante, ha un impatto positivo consistente sul vostro cammino di maturazione. Non abbandonare a lungo una cosa per poi recuperarla vi aiuta a mantenere le connessioni cerebrali attive e a continuare a crearne di nuove attorno agli argomenti che volete padroneggiare. Quindi molto bene e veniamo però al tema di questa sera. Voglio infatti introdurre questa sera una questione che sta cominciando adesso, per così dire, a essere effettivamente dibattuta, non che prima non lo fosse. Però adesso sta iniziando a vedersi piuttosto di frequente. È un argomento su cui non avevamo ancora speso direttamente parola noi di rotte narrative perché i tempi non erano ancora maturi. Ma i tempi stanno per essere maturi, stanno maturando e ormai è il momento di iniziare a introdurre questo argomento. È una questione che è andata crescendo di importanza all'interno del campo della scrittura, della pubblicazione e della fruizione di storie nel corso degli ultimi anni. Io direi che ha cominciato la sua crescita lenta ma costante da almeno una quindicina d'anni. Esistevano già da prima naturalmente gli argomenti di cui andiamo a parlare questa sera, però chi abbiano iniziato a far parte, ad affacciarsi sul grande pubblico, non è così tanto tempo. Sono appunto soltanto, si parla di una decina, una quindicina d'anni. Il fenomeno ha gradualmente assunto un'importanza maggiore e adesso sta iniziando proprio ad avere anche i suoi begli schieramenti di estremisti invasati pro e contro. Come sempre accade quando l'intelligenza viene parcheggiata in seconda fila, naturalmente ci sono anche le liti, ci sono i conflitti, non è vera letteratura, che cos'è, che cos'è sta schifezza, come è sempre successo con tutte le innovazioni, sia quelle sensate sia quelle che poi hanno dimostrato di non avere fondamento, ci sono sempre stati dibattiti di questo tipo. E tra questi schieramenti super a favore e super contro c'è sempre quel nucleo ragionevole di persone che stanno nel mezzo e in cui ci schieriamo anche noi di rotte narrative, come sapete. Io ve l'ho detto tante volte, ve lo dico una volta di più, non fatevi prendere dagli estremismi, non fate che solo perché qualcuno che conoscete, di cui avete stima, la pensa in un certo modo monolitico e tagliato con l'accetta, allora la pensate per forza così e anche voi, in un modo acritico. Avete sopra il collo, avete posizionato una testa, tenetela accesa e usatela per pensare, va bene? Consiglio spassionato. Poi se non volete farlo è più facile la vita se non lo fate, però io vi ho dato un consiglio. Parliamo di che cosa questa sera? Parliamo dell'eterna lotta tra Cartaceo e di Book. Sì, ma in realtà, plot twist, aggiungiamo un ulteriore contendente che scombina completamente le carte in tavola. Al campo di battaglia si aggiunge un terzo polo, dopo la scrittura, cioè la lettura in Cartaceo, dopo la lettura in digitale, aggiungiamo finalmente l'audiolibro. Ebbene, sì, ormai ragazzi gli audiolibri sono diventati, sono ormai più che un semplice supporto, sono una realtà in crescita che si è sfaccettata, è cresciuta mostruosamente e adesso non si può più ignorare. Sebbene ancora, diciamo, non vadano per la maggiore e sebbene ancora ci siano forti resistenze anche da parte di larghe fasce del pubblico, della lettura, e a questo proposito poi mi piacerebbe anche sapere da voi quanti di voi leggano audiolibri, audioleggano, e quanti invece di voi non abbiano mai provato, quanti di voi contano di farlo in futuro, sono tutte cose che mi piacerebbe sapere, se volete più tardi scrivetemele nei commenti che rapporto avete con gli audiolibri. Che vi piacciono, che non vi piacciono, ebbene, da stasera entrate nell'ottica di idee, perché ve lo garantisco io, che gli audiolibri fanno parte del presente, ma ancora di più faranno parte del futuro della scrittura, della scrittura e della fruizione di storie. E con audiolibri io non intendo strettamente l'ambito esclusivo degli audiolibri, ma intendo quello più ampio, se vogliamo, e dei contorni sfumati della narrativa per la voce. Questi sono argomenti che stanno davvero crescendo di importanza, e lo stanno facendo a un ritmo che per molti scrittori e lettori dei formati tradizionali, perché ormai anche l'ebook è un formato tradizionale, ecco, che probabilmente non riescono a immaginare. Quindi è il caso che si cominci a ragionare anche un pochino su questi argomenti. E come mai dovremmo parlarne? Come mai dovrebbe essere rilevante per noi mettere la nostra attenzione, soffermarla sul fatto che ci sia questa novità, che ci sia questo nuovo medium affacciato sul settore, e che questa cosa sia arrivata? Beh, perché scegliere il medium attraverso cui rendere fruibile il proprio romanzo, o più in generale le proprie storie, si parla anche di racconti di formato breve, anzi, sempre più spesso si parla di formato breve, è una scelta drammaticamente importante. Quanti di voi e quanto spesso arrivano a chiedere ma io dovrei pubblicare solo in cartaceo, solo in ebook? Un po' e un po'? Dovrei fare tutte e due? Oppure quante volte mi è capitato di sentirmi dire ma la mia casa editrice non fa gli ebook, fa solo il cartaceo. È una cosa sensata? Oppure no? O ancora, da self devo andare solo sull'ebook? È il contrario. O posso anche aggiungere il cartaceo? Eccetera, eccetera. E non sono questioni da trascurare. Ciascuna di queste categorie, ciascuna di queste destinazioni, ciascuna di questi approcci alla fruizione di storia va a determinare una circostanza di fruizione delle storie che fate bene a considerare in fase preventiva, in fase preliminare, quando il libro ancora lo state pensando o scrivendo. E se questo è già vero a livello strategico per la distinzione fra ebook e libro cartaceo, lo è ancora di più per la questione audio-libro, che poi appunto sono tutti quanti temi che ritornano in vari fasi del processo. Non ultimo, anche se ultimo cronologicamente non per importanza, quello della promozione, con il nostro solito discorso sulle fiere, sul vendere libri in fiera, eccetera, eccetera. Così come anche tutta la parte della promozione digitale che affrontiamo nello scrittore acclamato, dipende chiaramente dal tipo di supporto su cui è fruibile la vostra storia. Insomma, ci sono vari motivi diversi per cui la scelta del medium non è una questione secondaria, non è una scelta banale. Già le conoscete a proposito della distinzione fra ebook e libro cartaceo e è una distinzione che si può, e pari pari la si può applicare anche all'audiolibro, ma sull'audiolibro ne vanno fatte anche molte altre riflessioni. E per chi non lo sapesse, il mercato degli audiolibri è esploso, esploso negli ultimi anni, in modo particolare dalla pandemia in poi c'è stato un ulteriore incremento della fruizione di questa modalità di lettura, che cosa interessante, ne parlavo con il professor Cicala giusto qualche tempo fa, è una tendenza che a differenza di tante altre tendenze che si sono imposte durante l'era del covid, che poi sono rientrate quando l'era ha iniziato a calare, questa no, questa sta reggendo. E questa è una questione molto importante perché è esplicativa dei tempi e le ricadute che possono derivare da questa situazione sono qualcosa che fate bene a tenere in forte considerazione perché vi interessano davvero tantissimo. Lo sapete già, per diventare scrittori professionisti bisogna considerare l'esperienza di fruizione delle storie che avranno i vostri destinatari finali. Lettori, che anche se per gli audiolibri si fa un po' più fatica a chiamarli lettori, a volte li si chiama audiolettori, a volte li si chiama ascoltatori, li si chiama in tanti modi diversi, però sempre loro sono, sono le stesse persone, naturalmente, anche se hanno abitudini e modalità diverse per la fruizione delle storie. Provate a... E questo, questo fatto, è una cosa che va assolutamente capita. È una delle cose che noi, a Rotte Narrative, vi ripetiamo più spesso, e cioè che ciascuna storia richiede le sue riflessioni specifiche anche in termini di formato di pubblicazione. E è qualcosa su cui non torniamo indietro, su cui non cediamo terreno, perché è una delle cose che ho visto con più evidenza essere assolutamente causa di successi e di fallimenti, a seconda che siano state studiate bene o azzeccate per colpi di fortuna, oppure al contrario, malamente trascurate con risultati di successi e di flop. E questa è una cosa che ho visto tante volte. Provate a uscire con un romanzo storico solo in e-book. Il romanzo storico, lo sapete, è una tipologia, un genere letterario che ha dei fruitori che hanno delle caratteristiche piuttosto precise, hanno un'età anagrafica media piuttosto alta. Non vuol dire che non ci siano giovani che leggono, io adoro i romanzi storici, ne leggo un sacco, però ci intendiamo. E però, appunto, la media di quel pubblico lì è sul cartaceo. E provate davvero a pubblicare un romanzo storico solo in e-book senza aver fatto prima un lavoro di community building grosso, di customer base, di preparazione forte. Vi accorgerete da soli di cosa succede. Vi accorgerete da soli di quanto avrete venduto in capo a un anno facendo il paragone con un libro che sia magari invece uscito in parallelo tra e-book e cartaceo distribuito nelle librerie. È lì da vedere, potete fare la prova oppure potete guardarvi intorno e studiare un attimino dei case history. Ci sono tanti esempi, non che non esistano al solito, lo devo specificare perché le persone non sono spesso, cioè non vogliono essere intelligenti quando mi ascoltano alle volte. Non vuol dire che non ci siano i casi. Abbiamo intervistato con Rotte Narrative anche Isabel Giustiniani che è una scrittrice best-seller che scrive i e-book unicamente, cioè che scrive romanzi storici unicamente in e-book e ha avuto successo. Però lei ha costruito tutta una realtà attorno a questi libri, perciò davvero bisogna sempre conoscere le caratteristiche specifiche della propria situazione perché è l'unico modo per poter compiere, per poter mettere in atto delle strategie che abbiano una qualche speranza di apportare a dei buoni risultati. Non ce n'è, non è che si possa fare in modi diversi. E se questo è valido appunto per il discorso e-book e cartaceo, come dicevo, lo è tanto più per il discorso degli e-book. A proposito di distinzione, di romanzi storici, distinzione fra e-book e cartaceo, giusto pochi giorni fa abbiamo fatto delle analisi sulle vendite di Ottone, il primo dei Visconti, l'ultimo romanzo che ho scritto e che è stato pubblicato, l'ho scritto a quattro mani e mi sono da poco arrivati i rendiconti, mi sono arrivati da poco i risultati di vendita del primo anno di vita di Ottone e Visconti fino al 31 dicembre scorso e abbiamo analizzato, ne abbiamo approfittato io e il mio staff per analizzare le differenze di vendita fra il cartaceo e l'e-book e mi sono tra l'altro appuntato delle cose che finiranno sicuramente in delle nuove lezioni all'interno di scrivere romanzi storici. Lo so che alcuni di voi lo stanno aspettando, a breve lo rimetteremo sul mercato, non vi preoccupate e sarà più ricco ancora che non in passato. Ma senza distogliarci dal nostro focus, senza che ci mettiamo a divagare, voglio che facciate molta attenzione a un aspetto specifico. Abbiamo detto che il tipo di supporto su cui pubblichiamo le nostre storie è importante per le modalità di fruizione con cui il pubblico le fruirà. Ma non è tutto qui. C'è anche una parte a monte che è spesso sottostimata e che ha un impatto maggiore, come vi dicevo, per la scrittura, nella scrittura per la voce, rispetto che nella scrittura ebook e cartacea. Il medium di riferimento ha un impatto enorme, non sempre, ma che spazia tra il consistente e le norme, a seconda della tipologia di storia, anche sulle scelte stilistiche che prendete in relazione alla storia che volete raccontare. Davvero. E questa è una cosa che non ha un impatto così grosso quando si vada a parlare di ebook barra cartaceo. Lo stile di scrittura non cambia, giusto? Invece stavolta cambia. Stasera parliamo di questo. Preparate le vostre domande, potete già iniziarle a scrivere. Ah sì, ecco, non capivo se erano bloccati i commenti. Ah, ci sono un sacco di altri. Ok, sì, sì, c'erano semplicemente non li vedevo. D'accordo? Quindi, questa è una questione molto molto diversa, molto importante che la capiate questa differenza. Medium diversi avranno necessità di stili diversi per essere scritti. Accortezze specificamente pensate per la modalità di fruizione della storia. E questo è tanto più evidente ora che proprio gli audiolibri stanno facendo il loro prepotente ingresso tra i media di riferimento. Ok, quindi, esistevano già ma è fuori di dubbio che stiano vivendo in questo periodo un vero e proprio boom. Stanno ancora crescendo, tra l'altro. Non hanno ancora raggiunto il loro apice. È un mercato in espansione sotto tutti i livelli. Una cosa che potete verificare facilmente è che andando negli store che, da qui è possibile ascoltare libri audioletti non ci sono così tante storie come invece oceani che le potete trovare sui banchi delle fiere del libro o in libreria o negli store online che vendono i book. Sono ancora relativamente pochi quelli che si stanno dando da fare davvero per prendere questa strada e bersagliare questa nicchia che non è una nicchia è un mercato. È un vero e proprio mercato molto sfaccettato all'interno con alcune caratteristiche specifiche e ricorrenti e altre invece variabili come sono variabili le tipologie di storie che si possono rendere in formato voce. E questa cosa appunto è ciò di cui voglio parlare questa sera. Se avete domande su questi argomenti che sono argomenti tanto affascinanti quanto potenzialmente strategici per il vostro futuro allora stasera sono a disposizione almeno finché mi regge la voce e finché non sarò troppo stanco perché oggi ho lavorato un sacco. Cominciate pure a scrivere qui in chat mi raccomando le solite raccomandazioni ragazzi quindi cercate di stare oh che siete diventati una cinquantina bravi le raccomandazioni sono non parlate fra di voi quindi non rispondete ai commenti degli altri se fate delle domande relative a cose che ho appena detto mettete nel testo della domanda il riferimento a cosa fate riferimento e tenete un tono civile perché siamo tutti qui per imparare cioè voi siete qui per imparare io per aiutarvi buonasera buonasera a tutti allora alias comincia con la prima domanda i podcast li possiamo inserire nella categoria audiolibro? allora a rigor di termini no alias nel senso fanno parte chiaramente della stessa famiglia ma non sono la stessa cosa podcast e audiolibri hanno una serie di differenze che adesso che in realtà siamo ancora in fase di diciamo espansione sono dei confini ancora non ben sedimentati sono ancora per così dire effervescenti perciò anche la definizione di podcast rispetto a quella di audiolibro e la distinzione fra le due le due cose tende a variare a seconda della fonte su cui cercate informazioni provateci in linea di massima vi dico una cosa ve ne do io una prima diciamo di massima senza pretese di esaustività o univocità in linea di massima l'audiolibro è la riduzione in formato voce di un testo nativo per la scrittura mentre invece il podcast è un e diciamo questo è la cosa principale dell'audiolibro invece il podcast è un contenuto nativo in forma voce e solitamente il podcast ha anche altre differenze rispetto all'audiolibro che non sono nette perciò alcune delle caratteristiche del podcast le può tranquillamente avere anche all'audiolibro quali sono queste caratteristiche gli sound effect quindi possono esserci delle musiche di accompagnamento degli effetti sonori dei jingle dei rumori di fondo ecco tutte queste cose sono di solito molto più presenti nel podcast che negli audiolibri tradizionali ci sono molti tipi diversi in realtà di podcast e naturalmente io sto restringendo il campo unicamente ai podcast narrativi perché anche qui bisogna fare la distinzione come nei libri esiste la saggistica la manualistica la varia eccetera eccetera poi c'è la narrativa qui su rotte narrative ci occupiamo solo di narrativa allo stesso modo i podcast ci sono podcast di molte tipologie diverse ci sono quelli divulgativi ci sono quelli politici ci sono approfondimenti scientifici tecnici di vari argomenti ci sono anche quelli narrativi e badate bene a star avendo una grossa crescita sono tutti inclusi assolutamente quelli narrativi a differenza del formato del romanzo tradizionale che invece sta avendo una lenta ma inesorabile contrazione e questa è una cosa che tra l'altro non sempre si vede con chiarezza quando andate a spulciare i dati dell'istat sono un pochino a volte sono un pochino tricky da interpretare perché voi magari vedete il totale dei libri letti e che magari cresce rispetto agli anni precedenti ma non vi rendete conto che in realtà la tipologia di libri che interessa di cui a voi interessa valutare la vitalità di mercato non sta crescendo perché a crescere sono settori dell'editoria che non sono la narrativa o magari non sono la narrativa della tipologia in cui esordireste voi o scrivereste voi magari a crescere che è la narrativa sì ma in traduzione d'accordo quindi ci sono sempre parecchi discorsi da fare quando si parla di editoria lo sapete è un ambiente abbastanza depresso abbastanza ridotto invece per quanto riguarda la narrativa per la voce beh il trend è in crescita e addirittura ci sono delle potenzialità di di ingaggio si viene pagati con molta più facilità tra l'altro oggi per essere autori per la voce rispetto che autori per la carta o l'ebook questa è una cosa che ancora pochissimi si sono accorti che c'è ma c'è e non solo c'è ci sono fior di realtà che stanno proprio cercando dei professionisti in questo senso e non li trovano e sono argomenti naturalmente curiosi in questo senso allora Franza scrive penso spesso che risparmierei un sacco di tempo con gli audiolibri ascoltandoli mentre faccio altro magari ma personalmente ho sempre paura che non mi divertirei allo stesso modo che leggendo certo beh questa è una paura del tutto comprensibile tutto quanto quello che è nuovo se lo applichiamo a qualcosa che ci piace molto fare ha sempre si porta sempre dietro quel quel po' di insicurezza circa la domanda che potrebbe andare a compromettere quella magia quella parte specifica che piace di più a noi oppure no però non c'è niente come provare per essere per togliersi il dubbio Gian Mattia ci sono scrittori che oggigiorno progettano i loro romanzi in modo da risultare efficaci sia nel caso vengano letti oppure ascoltati tu come ti comporti in questo senso? comunque il tempo speso qui il giovedì sera d'estate non è mai sacrificato certo ma del resto il sacrificio non è spreco il sacrificio è dono è dedizione è elevazione a una causa una causa che naturalmente è la vostra il vostro sogno perciò certo hai assolutamente ragione Gian Mattia allora sì Gian Mattia ci sono scrittori che oggigiorno progettano i loro romanzi in modo da risultare efficaci per la voce in realtà una cosa che probabilmente farà suonerà strana a tanti di voi le tecniche di scrittura più efficaci per la lettura visiva a occhio non sono le stesse tecniche che rendano più efficace la scrittura per un testo destinato alla voce già è proprio così ci sono delle alcune regole sono le stesse alcuni principi i principi fondamentali della narratologia rimangono gli stessi ma cosa cambia cambiano diverse cose cambiano parecchi aspetti diversi mi domandi come mi sto comportando io Gian Mattia ti dico soltanto che ho già preso accordi con la mia casa editrice con PM Edizioni del gruppo Mondadori e il mio prossimo libro avrà una versione audio non ho mai scritto un libro con questa modalità cioè sapendo in anticipo che diventerà un audiolibro c'è stata una volta una riduzione in audiolibro di Eternal War 1 però non ha mai raggiunto il mercato e adesso in futuro forse chissà potrebbero esserci altre cose in questa direzione di cui non vi posso parlare però sicuramente non avevo mai approfondito i modi in cui la destinazione per la voce vanno a impattare sulle tecniche stilistiche sulla costruzione sull'impostazione delle scene eccetera eccetera per ottimizzare un testo per la voce è una moltiplicazione della complessità ed è una di quelle cose che potrebbero anche spaventare qualcuno alle prime armi in realtà io mi sto accorgendo che sto studiando molto questo argomento nell'ultimo periodo e mi sto accorgendo che è interessantissimo è una figata perché davvero permette di è un po' una cosa che ti dà l'occasione e non capita così tante volte nella vita di tu magari hai studiato a lungo un argomento lo hai studiato nella specificità di un'applicazione l'argomento è la narratologia la specificità è la narrativa in prosa scritta non hai così spesso l'occasione di diciamo astrarti un po' dalla specificità per provare ad applicare quel bagaglio di conoscenze che hai ha un settore un po' diverso e non capita spesso questa è un'occasione per farlo e è in un certo senso è divertente perché c'è un po' il fascino della scoperta del nuovo anche per me che ne ho scritti un po' di libri e che ho studiato ne ho mangiati un po' di manuali di corsi di scrittura e quant'altro questo aspetto è un aspetto praticamente inesplorato non esiste un singolo corso che insegni a scrivere per la voce e questa è una cosa che mi ha anche proprio fatto dire davvero non l'ha fatto nessuno non l'ha ancora fatto nessuno ok va bene e però è più difficile però è molto affascinante molto interessante mi sto comportando di conseguenza già Mattia Sec Blue io ascoltai un audiolibro sulle memorie di Adriano qualche tempo fa fu carino ma poi non approfondì la cosa Pier Giorgio io utilizzo l'audiolibro e se ho lo stesso titolo in cartaceo allora li utilizzo contemporaneamente ah pensa pensa curioso quindi hai il testo davanti e la voce nelle orecchie e li leggi entrambi è capitato anche a me qualche volta non con audiolibri e testo bensì con audiosintesi e testo perciò c'era il testo a pagina e l'audiosintetizzatore del programma Word sapete che ha la funzione con cui compare la vocina sintetica che ve li legge e vi legge quello che ha scritto e mi è capitato 10 volte di utilizzare la funzione dell'audiosintesi in tipo terza stesura su un testo su un romanzo per cogliere gli errori perché l'audiosintesi se c'è una lettera fuori posto se c'è una discordanza di genere di numero così non fa come fa alle volte il vostro cervello che vi trolla e corregge l'errore in modo da non farvelo vedere ve lo corregge in automatico e voi passate oltre no la voce è stupida e nella sua stupidità vi aiuta perché letteralmente vi dice cosa c'è scritto sul testo e perciò mi è capitata qualche volta questa esperienza però a me dopo un po' dà fastidio perché di solito o l'occhio è più veloce della voce oppure la voce è più veloce dell'occhio e stare non subito magari a volte 10 minuti ce la faccio ma alla lunga poi devo disattivarla vincenzo mai audioletto ma non lo escludo in futuro io ne ho audioletti parecchi di libri sono interessanti in certe circostanze li preferisco ai libri normali in certe non in tutto Laura non riesco a seguire mi distraggo troppo mia figlia invece li adora finora ho audioletto solo con lei soprattutto Rodari ah pensa Laura tu di che generazione sei grosso modo lo so che non si chiede l'età alle signore però sono curioso un po' di questo argomento proprio perché non ci sono così tanti dati così tante ricerche fatte a questo proposito una cosa che mi piacerebbe capire è se ci possa essere che è un'ipotesi che faccio io se ci possa essere diciamo una soglia sopra la quale è meno probabile che si sia propensi a gustarsi con facilità un audiolibro a causa della grande mole di libri che si sono fruiti in precedenza in formato scritto questa è che sarebbe una cosa plausibilissima e normalissima però appunto voglio capire se c'è una correlazione di questo tipo ho già raccolto qualche dato però tutti quanti in modo empirico e senza diciamo senza pretese di rilevanza statistica Simona buonasera per me è la prima volta in live benvenuta Simona Arianna sono curioso di sapere se c'è una differenza sostanziale fra gli introiti del cartaceo e dell'ebook se il guadagno del cartaceo è 5-15% in percentuale quello percentuale dell'ebook qual è in media? allora guadagno del cartaceo 5-15% è una forbice molto ampia è vero che esistono dei casi limite in cui il guadagno di un cartaceo è del 15% a me è capitato di avere come percentuale di royalties su un cartaceo del 18% ma erano casi assolutamente eccezionali io restringerei questa forbice tra l'8% e il 12% questa è la media diciamo è la fascia che al suo interno raccoglie direi il 90% dei casi quindi vale la pena di metterla lì quindi se tu mi dici il guadagno del cartaceo è il 15-15% quello in percentuale dell'ebook qual è in media? allora Arianna quello che ho visto io ti parlo dei contratti che ho firmato in prima persona era sempre un contratto a scalare cosa significa? a seconda del numero di copie vendute a scaglioni come gli scaglioni IRPEF attuali futuro non si sa c'era corrispondeva una percentuale diversa di royalties quindi magari il 4% fino a 1000 copie il 6% tra le 1000 e le 3000 copie l'8% tra le 3000 e le 5000 eccetera eccetera per arrivare fino a sopra il 20% tipo 20% o 25% sopra le 40.000 copie e robe del genere quindi in caso di enorme successo all'autore dall'ebook arriva una fetta maggiore questo è l'approccio che tengono gli editori medi e gli editori grandi in molti casi non ho fatto diciamo ricerche troppo specifiche su questo se qualcuno dei presenti ha delle storie alternative da raccontare è libero di dirle anche se non è proprio in topic già Mattia giusto per complicare il topic di questa sera esistono i videolibri per caso qualcuno ne ha parlato o esiste la prospettiva che verranno creati sai che non lo so già Mattia cosa intendi con videolibri cioè qualcuno che si filma mentre li legge oppure qualcuno che li interpreta qualcuno che li interpreta immagino si chiamino riduzioni cinematografiche o televisive videolibri veri e propri non ne ho mai sentiti Veronica io ho nessuna esperienza con gli audiolibri ma non escludo di suffruirne come lettrice in futuro molti lettori li apprezzano anzi li consigliano molto sapete qual è uno dei motivi per cui c'è chi dice che l'audiolibro salverà la lettura e diciamo per cui questa affermazione un po' tanto diciamo altisonante impegnativa ma che comunque ha un fondo di verità è il fatto che leggere è un'attività leggere la carta naturalmente o l'ebook è un'attività che vi occupa il 100% dell'attenzione in alcuni casi persone brave col multitasking potrebbero far scendere questa percentuale al 70% magari c'è chi è capace l'ho visto fare di leggere un libro seguendo il filo cioè tenendo il filo senza distrarsi e intanto riuscire a seguire una conversazione oppure avere la televisione accesa e un po' leggere e un po' ascoltare il programma io non sono assolutamente capace molti che conosco io non sono capaci esiste chi è capace sta di fatto che leggere richiede un insieme di azioni su cui già tante volte vi ho spronati a riflettere perché quelle azioni anche nella loro meccanica hanno un impatto sul modo in cui noi frulliamo le storie per esempio l'andamento lineare delle parole e della lettura sempre da sinistra verso destra nella nostra lingua il fatto perciò che questo ha un impatto sulla esperienza fruitiva della storia di fiction come mai per esempio che se l'andamento è lineare non esiste la contemporaneità la contemporaneità nella scena non può essere resa in modo diretto perché perché l'occhio leggerà comunque prima una cosa poi un'altra poi un'altra sempre in una direzione non torna indietro e questo cosa che invece è tutta diversa rispetto a il cinema in una singola scena si possono vedere due persone con due espressioni diverse e le si può vedere nello stesso istante ecco perché io vi sprono sempre a tenere d'occhio questi argomenti queste questioni ebbene l'audiolibro ha il vantaggio che non impegna la vista e voi direte beh è una cosa rilevante però forse non è poi così importante perché comunque la tua attenzione deve rimanere lì e no invece è una rilevanza gigantesca perché pensate a una semplice questione voi lo sapete che ci sono aree del cervello deputate all'elaborazione sensoriale che a seconda delle varie sensi del corpo bla 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 occupano una quantità maggiore di attività cerebrale ebbene c'è chi ha fatto un calcolo dei di a quanto corrisponde tra l'altro questa cosa mi sembra di averla messa anche nello scrittore speciale si è visto per farla breve che le la sensorialità visiva per gli esseri umani conta per mi ricordo cito abbraccio circa l'ottanta per cento del totale che significa che udito olfatto gusto tatto e propriocezione eccetera eccetera occupano il restante 20% la vista è l'ottanta per cento quindi il mondo noi per noi per la nostra per la totalità percettiva degli esseri umani è all'ottanta per cento qualcosa di visivo la lettura si basa sulla vista l'audiolibro si basa sull'udito cosa significa le informazioni sono più o meno le stesse certo ci sono delle differenze differenze stilistiche come vi accennavo ne parleremo meglio in futuro però la stessa informazione che l'occhio decodifica attraverso la lettura della riga e della pagina sono esattamente le stesse informazioni che l'orecchio decodifica per da una voce che gli parla nell'orecchio siamo tutti d'accordo no? e però così facendo si è spostato l'ingombro da quel senso che è il nostro ottanta per cento della realtà ha un senso che è una parte certo importante ma non così tanto e la vista beh la vista adesso ci rimane disponibile per molte altre attività che non richiedano la nostra concentrazione il che può includere lavare i piatti i pavimenti stirare le camicie andare a fare la spesa viaggiare in auto viaggiare in treno no in treno in realtà si può anche stare comodamente seduti e leggere ma in auto no e invece in auto l'audiolibro è un compagno di viaggio formidabile specie per chi deve fare lunghe percorrenze io è così che ho iniziato con gli audiolibri facendo avanti e indietro dalla provincia di Bergamo e Milano ho iniziato quando ero ancora uno studente ed ero non pendolare ma facevo spesso avanti e indietro e quindi questa è una cosa da capire pensate a quante circostanze nella vostra vita fate una prova domani quante circostanze nella vostra vita in una giornata normale per voi sarebbe impossibile leggere un libro e sarebbe invece possibile audio leggere sono tante vi accorgerete che sono tante il tempo disponibile dipende ovviamente dalla vita che svolgete ma per qualcuno raddoppia per qualcuno più che raddoppia per alcuni rimane più o meno lo stesso però non ci sono circostanze in termini di spazio della giornata occupabile che l'audiolibro non possa assorbire dalla lettura a occhi ma non è vero il contrario ci sono molte parti che sono disponibili solo all'audiolettura e non alla lettura tradizionale e con delle vite impegnate come le nostre in cui spesso appunto non abbiamo il tempo l'occasione per soffermare il nostro sguardo e la nostra attività cognitiva di rielaborazione codifica e figurazione mentale completamente su un singolo referente dobbiamo fare anche altre cose contemporaneamente cose magari noiose beh l'audiolettura salva io nessuna spesa Stefano finora non ho ancora avuto occasione di ascoltare audiolibri ma prima o poi ho intenzione di provare a farlo ti consiglio di fare l'esperienza Stefano ci sono mi sembra che ci sia no però non vorrei dire stupidaggini i due diciamo grossi store che da cui è possibile acquistare degli audiolibri sono Storytel e Audible Audible è proprietario di Amazon quindi lo si può avere come mi sembra con uno sconto all'interno del pacchetto Amazon Plus non sono sicurissimo io ce l'ho ma non mi dimentico questo è esattamente il tipo di cose di cui mi dimentico e quindi però appunto chi ce l'ha può provare può fare il test forse c'è anche una prova gratuita sono quasi sicuro che o Storytel o Audible abbiano una prova gratuita non mi ricordo quale dei due io li ho avuti entrambi poi uno dei due l'ho Storytel poi l'ho mi sono cancellato Sara di solito ascolto audiolibri mentre faccio attività come cucinare pulire casa quindi preferisco ascoltare audiolibri non più lunghi di quattro ore devi avere una casa grande oppure cucini per tante persone nessuno Y59 mai provato ad ascoltare audiolibri sinceramente non me ne non ne ho interesse né attrattiva non ne sono eticamente contrario ma boh zero interesse almeno al momento è legittimo alias gli audiolibri mi stanno salvando ascolto voracemente libri nei momenti morti della giornata con il lavoro che faccio è difficilissimo leggere un cartaceo ecco avete visto già Mattia a quale genere appartengono gli audiolibri più apprezzati non c'è un genere è più una questione di stile che non di genere Veronica il problema principale per me sarebbe dovuto dalla corrispondenza del sesso tra voce e personaggio parlante inoltre che la questione di interpretazione e velocità di lettura naturalmente queste sono tutte variabili brava Veronica per aver introdotto per avermi dato lo spunto per introdurre una questione rilevante l'audiolibri come tutte le cose del creato ci sono pro e contro a seconda dei punti di vista e delle circostanze abbiamo parlato di molti dei pro degli audiolibri e del fatto che potenzialmente possano trasformare in momenti di lettura tante parti morte della giornata come diceva poco fa alias ci sono naturalmente dei lati però negativi da tenere in considerazione e questi lati che vanno tenuti in considerazione hanno a che fare con una questione che riassumendola in una parola possiamo sicuramente definire diegetica per quelli che hanno studiato il corso della masterclass per diventare editor già probabilmente se l'hanno studiata bene già capiscono dove sto andando a parare infatti la questione è che quando si parla di diegesi si parla di l'atto del raccontare una storia ha anche altre eccezioni questo termine si è un po' allargato si è un po' desemantizzato e adesso viene talvolta utilizzato per indicare la totalità dei fatti relativi al mondo narrativo in realtà la sua diciamo accezione originaria era quella che la contrapponeva a mimesis mimesi e diegesi erano l'una inscindibile dall'altra ma opposta all'altra e la diegesi era relativa all'atto di raccontare mentre la mimesi alla diciamo alla evocazione diretta della materia della storia ebbene la scrittura trasparente quella che vi insegniamo noi di rotte narrative è tutta quanta incentrata sulla mimesi sul far vivere la storia al lettore sulla sua pelle come se lui fosse in scena ebbene se è un audiolibro questa cosa non è possibile non è possibile fino in fondo come mai beh perché c'è un atto di raccontare che ha luogo e non è svolto dalla voce interna del 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 lettore e non è neanche totalmente diciamo calabile sincronizzabile con la voce interiore del personaggio non al 100% come mai perché c'è un attore che legge e l'attore ha la sua voce e la sua voce non sarà mai la voce di tutti i personaggi del libro mentre l'atto di leggere con gli occhi ci permette di inventare l'interezza della storia o meglio noi seguiamo il binario della testualizzazione e è quello che ci suggerisce cosa ci dobbiamo immaginare ma l'atto creativo che noi facciamo è ampio è totale a partire dalla parola scritta e perciò noi distinguiamo le voci diverse ci pare di sentirle ci pare di vedere le loro facce di immaginarci eventuali difetti di pronuncia è un po' come quando poi guardiamo la serie tv tratta dal libro e diciamo ma io me l'ero immaginato diverso c'è questa distanza no? perché? perché quello che ci eravamo immaginati noi quando abbiamo vissuto quella storia sulla nostra pelle attraverso la mimesi era costruita in base ai nostri parametri ebbene nell'audiolibro questa cosa non è possibile perché c'è una voce che ci racconta la storia c'è una voce che fa un'azione riguardo a questa storia to tell ci tella la storia la voce dell'audiolibro proprio così ve lo ricordate show don't tell vi ricordate quando noi vi dicevamo non dovete essere dei nazisti dovete capire cosa significa show cosa significa tell il perché in certe circostanze lo show è la cosa più efficace ma cosa significa che in certe altre invece il tell può tornare utile eh già perché la scrittura per la voce è più tell che show avete capito bene sì non significa che tutte le cose che state imparando su rotte narrative non si applichino anche alla voce i principi narratologici sono esattamente gli stessi ma come vi dicevo a cambiare è il modo in cui vengono declinati vi faccio un esempio proprio così al volo per farvi capire la differenza tra il metodo di decodifica di una storia con gli occhi e quello della della voce quando voi scrivete un dialogo vi ricordate il principio che abbiamo visto mille volte nei line editing del giovedì sera quando un personaggio cioè diciamo c'è una frase con soggetto un personaggio e poi comincia un dialogo se quel personaggio è il primo a parlare io vi dico beh se voi lasciate la battuta sulla stessa riga della frase il lettore capirà immediatamente che ad aver parlato è lui perché c'è una convenzione implicita per la quale visivamente quando si va a capo il soggetto parlante cambia e lo potete vedere facilissimamente nei botta e risposta quindi c'è una riga con una battuta di testo poi si va a capo e c'è un'altra battuta di testo diversa ma non c'è scritto disse Giovanni rispose Luca aggiunse Pier Giorgio cioè se sono tre già è un casino però se sono due i personaggi in scena basta che siano alternate e il semplice andare a capo è il segnale è proprio il segnale visivo che vi fa capire che lì il soggetto parlante è cambiato ma se state ascoltando quella stessa storia letta da qualcuno non vedete lì a capo l'unica cosa che potete sentire al massimo è una pausa tra l'una e l'altra e beh ma a volte i dialoghi non consentono la pausa specie se sono concitati se sono rapidi e infatti ci sono altre cose altri strumenti che la voce mette in campo per supplire alle mancanze che in termini di libertà che la scrittura invece per la prosa la prosa scritta ha prima fra tutti beh l'abilità di colui che legge o con lei abilità in che senso l'intenzione il tono l'intonazione attori bravi voice actor capaci possono modulare la loro voce in modo da poter suggerire che si tratta un cambio di personaggio parlante certo una cosa che non può fare un singolo attore è risultare credibile nel 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 dare voce a tutti i personaggi questo chiaramente non è possibile è comunque necessario un atto di rinuncia volontaria dell'incredulità e questo atto è tanto maggiore quanto più no ma non vi voglio dire troppe cose perché sennò io poi mi prendo bene perché sono argomenti che mi affascinano sono super interessanti però poi se vi dico troppe cose troppo approfondite poi tanto non le capite però sì esatto c'è quel problema lì Veronica Lorena non ho ancora provato gli audiolibri amo leggere io per gli altri ma non mi piace se leggono gli altri ma suppongo che se gli audiolibri sono letti bene potrebbero piacere ciao Alfonso ho avuto una bella esperienza con un mio racconto che è stato letto da una professionista e sono rimasta sorpresa dalla sua interpretazione è capitato più volte anche a me Lorena in varie presentazioni di cui sono stato ospite a cui sono stato invitato fa molta differenza quando a leggere l'estratto il brano della vostra storia è un bravo attore oppure no fa molta differenza io ricordo le prime volte in cui le colpe dei padri degli estratti o prima ancora dieci passi nell'aldilà la mia prima raccolta cartacea in cui era presente un mio racconto veniva letta da persone capaci mi ricordo la mia meraviglia perché ascoltavo quel testo e pensavo wow è più bello di come io l'avevo scritto adesso che lo sta recitando questa persona sembra più vero sembra tutta un'altra cosa sembra più professionale sembra più questi sono effetti che possono capitare di nuovo non è meglio in assoluto a qualunque vantaggio corrisponde uno svantaggio pensate appunto a certi libri in cui magari ci siano dei personaggi non lo so di un'età molto giovane e la voce narrante debba interpretare dei personaggi che invece la voce narrante adulta o magari addirittura adulta matura debba interpretare la voce di bambini per alcuni lettori per alcuni fruitori di storie questo è un problema grosso irresolvibile in modo particolare per le persone più uditive le persone che hanno più senso uditivo hanno una dominanza uditiva rispetto alle altre è più difficile passare sopra certe cose molte altre non hanno questo problema però questo problema in linea di massima esiste e perciò è una di quelle questioni da considerare Eliane ho ascoltato diversi audiolibri quello che per adesso mi è piaciuto di più è Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie perché ci sono più voci e anche gli effetti sonori esempio treno passi sì esatto Elia ci sono varie modalità diverse di realizzazione di un audiolibro la più allora adesso siamo già un po' in una fase convergente nel senso che si sta un po' in qualche modo imponendo una modalità dominante che è per le storie a punto di vista singolo oppure multiplo con tanti punti di vista diverso una singola voce e alle storie con due punti di vista magari un lui e una lei due attori un lui e una lei questa è la modalità che si sta diciamo un po' imponendo è la più comune un tempo c'erano maggiori sperimentazioni ed erano più comuni rispetto adesso con tutto che continuano a venire fatti anche adesso gli approcci un po' come quello che hai provato tu quindi libri in cui ci siano parecchie voci narranti una magari per ogni personaggio e questa è una cosa che può aiutare molto l'aspetto di immersione nella vicenda l'aspetto di mimesi vedete come la questione non è monolitica è sfumata è ha a che fare con una regia e regia è una parola che se questo argomento vi interessa è una parola con cui dovrete familiarizzare Thomas ho provato ma credo che la voce sia fondamentale e che funzioni solo con quei libri che non hanno mai letto o che non ti hanno preso particolarmente mentre al caso difficilmente verrebbe riacquistato però la voce sia fondamentale sì 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 eh beh ovviamente non è la stessa cosa per chiunque Enzo come pensare lo stile in merito all'audiolibro in cartaceo ebook ci sono convenzioni a capo per cambiare parlante per esempio che all'ascolto potrebbero non emergere esatto Enzo esatto è come pensare lo stile in merito all'audiolibro è uno di quegli argomenti che meriterebbero molto più spazio rispetto che una sessione di Q&A ce ne sono tante tante di cose da dire il punto è conoscere anche se non è sempre possibile quali sono le modalità prevalenti in base alle quali gli audiolibri vengono preparati vengono realizzati e scrivere tenendo conto di quelli che saranno i plus di quella modalità in modo da valorizzarli e i minus di quella stessa modalità di quell'approccio in modo da supplire cioè da far aver loro il minore impatto possibile e nel caso della narrativa in appunto a voce delle storie a voce per esempio ti dico proprio una cosa super macroscopica ci sono delle persone narranti che funzionano meglio molto meglio che non rispetto alla forma scritta per esempio prima persona passato remoto in voce davvero provate al solito a patto che ci sia la voce giusta provate ad audio leggere l'amica geniale di Elena Ferrante con una attrice madre lingua napoletana capace di adottare un italiano standard privo di inflessioni per le parti di prosa che non sono dialettali minimamente sono scritte nel modo i modi soliti che vediamo noi le parti ben scritte dei brani che analizziamo sono scritte così ma quando si passa al dialogo è perfettamente credibile e in quel caso lì le parti di un dialogo sono dialettali e una voce capace di rendere il dialetto provate a dire che non è un vantaggio provate a dire che non incrementa il senso di efficacia di immersione è una questione di effetto quanto è intenso l'effetto quanto è forte quanto funziona bene sugli ascoltatori che diventano ascoltatori funziona molto meglio una storia che ti racconta il passato a voce che non vederla scritta perché beh ripeto ciascuna di queste cose mi verrebbe da dirvi molte altre cose però ce le teniamo per un'altra volta Thomas udire la voce di un personaggio a cui ho già dato una voce non mi piacerebbe eh sì esatto come ne parlavamo prima buonasera dice Alessandra ma domanda riguarda show and tell se nell'audio il tell può non essere troppo problematico per via della mediazione della voce elettrice lo show come viene percepito ottima domanda Alessandra ottima domanda lo show è negativo nella in una narrazione a voce assolutamente no per niente ma se è solo show se è scrittura trasparente pura non funzionerà altrettanto bene rispetto a una precisa miscela di show e tell questa è la risposta super riassuntiva poi tra il dire e il fare chiaramente c'è di mezzo il mare non è facile non pensiate che io vi stia dicendo che quello che ciò di cui vi sto parlando sia un argomento facile non lo è e non ci sono ancora se voi ne conoscete qualcuno scrivetemi per favore non ci sono ancora testi di narratologi che abbiano studiato queste questioni più di tanto ci sono sì ci sono le indicazioni date agli attori sì felice arriviamo ci sono cose di questo tipo ci sono manuali di recitazione manuali di edizione di interpretazione di intenzione non è scrittura non è narrativa la narrativa per la voce è narrativa ed è un argomento che se la narratologia nella sua accezione più generale e in particolare per la prosa è una disciplina ormai matura che certo si possono ancora essere delle piccole innovazioni però il grosso lo abbiamo capito lo abbiamo raggiunto le meccaniche i metodi li conosciamo questo aspetto qui complica le cose se ci pensate è un passo fatto in una direzione che si stacca un po' da quel rapporto a due che c'era fra il lettore e la storia voi che lo raccontate che in realtà sparite per lasciare per lasciar campo alla storia scrittura trasparente è questo è un rapporto a due quello lì quello che siete abituati a mettere in campo quando scrivete narrativa con l'audiolibro non è più un rapporto a due è un rapporto a tre almeno a tre può essere a più tre perché ci siete voi c'è la storia e c'è quello che la legge quello che la legge fa parte della storia ma in un certo senso è la influenza lui la storia a seconda a seconda dell'intenzione con cui un brano può venire letto voi potete capire cose completamente diverse dalla storia e perciò capite da soli quanto si problematizzi la linearità del testo quanto non basti più essere univoci con le informazioni che mettete sulla vostra riga fare il line editing di un testo di un audiolibro sarebbe un casino perché richiederebbe un livello ulteriore richiederebbe sì l'analisi testuale cosa c'era scritto nel testo che l'attore sta leggendo ma ci sarebbe anche un'analisi ulteriore un'analisi ad esempio delle pause un'analisi delle intonazioni della intenzione dell'articolazione delle parole di una serie di cose cose che non hanno affatto a che vedere con ciò che voi scrivete quando scrivete narrativa e che hanno a che fare con una dimensione altra ma è una dimensione necessaria alla codifica della storia e che verrà decodificata modificherà la decodifica che i lettori faranno di quella storia capite iniziate un po' a capire la questione qual è è una questione affascinante è una questione molto interessante io recentemente mi sono messo a spulciare un bel po' di script di lettori di attori riduttori da libro ad audiolibro e ci sono tutte delle convenzioni ci sono dei modi anche personali individuali che i singoli attori adottano modi per segnarsi all'interno di testi dove fare le pause dove riprendere fiato a seconda di dove il lettore riprende fiato il testo può risultare diverso con un accento diverso con un'attenzione diversa su una parola e non su un'altra magari entrambe presenti nella stessa frase e sono è una questione molto molto affascinante alias scrittura trasparente e audiolibro necessità di essere riadattata allora alias quel che posso dirti è che sicuramente se noi prendessimo un libro in trasparenza completa che ne so un libro di vapore teppa e lo pari pari mettessimo in audiolibro in formato audiolibro io penso che il risultato sarebbe strano al meglio probabilmente potrebbero essere scogitati degli artifici specifici con cui istruire l'attore per rendere un testo totalmente trasparente ma in realtà i risultati migliori si otterrebbero in realtà andando a ritoccarlo quel testo andando a ammorbidire la trasparenza con l'aggiunta di inserti intel non dappertutto e non a caso questo deve essere molto chiaro la voce però la presenza di una persona che parla in qualche modo denuncia in continuazione la presenza di un'interferenza vi ricordate quando vi dico cosa fa il perché dovete rimuovere la presenza del narratore nelle scene nelle scene dei vostri libri beh perché quella è una relazione a due il testo il lettore vede il testo e se c'è una terza persona di mezzo quella terza persona è di troppo e perciò rimuovendo quella terza persona al lettore si dà la possibilità di calare in profondità nella scena essere fisicamente presente lì sentirsi sulla pelle le sensazioni con la voce non è possibile questa intimità tra il lettore e il testo sono possibili altri effetti quindi ricercare la mimesi assoluta che la trasparenza consente ed è un'esperienza fighissima chiaramente sul testo scritto non è possibile allo stesso modo in un audiolibro non lo è perché non è possibile far sentire escludere tutti quegli elementi alieni che sono che vanno a opacizzare la perfetta immersione nella scena perché quell'elemento c'è è quello che gli sta raccontando la storia perciò il lettore non avrà mai la sensazione di trovarsi da solo in scena con i personaggi ci sarà sempre quella voce e perciò è un po' come dire una storia che è velata che è tellata di default perché se ci pensate è esattamente quello che è e allora se questa caratteristica c'è allora va la pena di tirar fuori il meglio dalla presenza di elementi che questo medium presenta ok dalla struttura che ha dalle caratteristiche che ha perciò in una parola in una parola sola sì c'è questa c'è questa necessità in effetti adesso non so come mai ma di nuovo più giù di un tot il tablet non so come mai non legge i commenti ma io stavolta mi ero preparato perciò vado avanti a leggere dal cellulare ne avete scritti tantissimi nei commenti qual era l'ultimo che avevo letto era quella di Allianz eccolo qua Lucia Baschirotto quali sono le caratteristiche di stile che diventano un problema negli audiolibri è un po' complicato da spiegare Lucia dovrei prendere un testo e farvi vedere pezzo per pezzo Vir buonasera a tutti partecipo per la prima volta ascolto con molto interesse l'argomento sia come scrittore sia come voce ah benvenuto o benvenuta sera Giovanni Giammatia qual è il rapporto delle case editrici con gli audiolibri in Italia c'è interesse ad avere spazio in questo settore allora il rapporto delle case editrici italiane con gli audiolibri è come al solito misto dipende dipende dai casi alcune case editrici la considerano la quella la classica innovazione che va tanto di moda ma il buon vecchio libro di carta quello profumato di cui ci piace sentire l'odore non tramonterà mai e noi facciamo solo questo tipo di libri che va benissimo per carità va benissimo per un certo tipo di pubblico però è un po' una chiusura mentale a priori decidere di non cioè di non prendere in considerazione una cosa solo perché non è quel che si è sempre fatto ci sono case editrici invece che hanno incluso gli audiolibri all'interno delle proprie strategie di solito anche qua dovete capire che rispetto ad altri campi ad altre questioni ad altri argomenti che sono magari di natura storica che ci sono da tanto tempo questo qua fa un po' eccezione perché è comunque un argomento che si è affacciato da poco da poco da relativamente poco alle luci della ribalta editoriale perciò molte cose non si sono ancora stabilizzate posso dirvi in base alla mia esperienza diretta quel che ho visto io è che editori sia grandi che medi piccoli abbastanza raro che succeda però qualche ho anche in mente due tre episodi con editori di piccola fascia che cosa fanno realizzano internamente l'audiolibro e poi lo mettono in vendita sul sito della casa editrice no prendono invece accordi con oggi soprattutto già cinque dieci anni fa era un po' diverso oggi la cosa più comune è che si prendano accordi con una delle realtà che poi hostano quegli audiolibri audible storytell ce ne sono altri tre o quattro questi sono i principali si fanno accordi c'è un reparto apposito di queste realtà che si occupa di prendere in considerazione diversi editori e una volta che prende in considerazione un editore poi non fa la proposta per un singolo titolo ma per multipli di solito si parla dell'intero catalogo a volte se si tratta di case editrici di dimensioni ridotte oppure se si tratta di case editrici big allora si fa una selezione per esempio Tone il primo dei visconti non ha non ha avuto una riduzione in audiolibro ma altri libri nel corso pubblicati da PM nel corso dell'anno lo hanno avuto circa uno su tre uno su quattro una cosa del genere una minoranza ebbene tra l'altro sono anche andato a vedere in che modo ha impattato la presenza dell'audiolibro sulle vendite dei cartacei attraverso indagine GFK e ho scoperto che non non sembra avere correlazione alcuni dei libri che avevano anche la versione audiolibro erano tra i più venduti dell'anno della collana e altri erano fra i meno venduti quindi non c'era una correlazione diretta che significa che non è un trick non è un trucco non è che se c'è l'audiolibro allora automaticamente il libro vende di più a volte sì a volte no non c'è modo di sapere ma sì certo magari poco su GFK magari erano stati ascoltati tantissimo però io non credo perché erano ho controllato solo mi sono specializzato solo sui romanzi storici che erano quelli che interessavano a me per capire in che modo Ottone si collocava all'interno dell'anno tra l'altro per chi di voi fosse anche un mio lettore vi farà piacere sapere che mi sono da poco arrivati appunto i rendiconti come vi dicevo in apertura e Ottone ha ufficialmente superato il numero di vendite che erano necessari per coprire l'anticipo che mi era stato dato in fase cioè prima della pubblicazione e questo dovete sapere anche visto che 99% di voi non hanno pubblicato con una big dovete sapere che questa è la prima cosa che le big guardano per decidere se un libro è andato bene o è andato male avete presente tutti quelli che vi dicono nei corsetti di scrittura quelli che fanno ridere che dicono ah sì che bella cosa gli anticipi più sono alti meglio è perché se il libro anche vende poco se vi danno un anticipo sulle royalties poi voi non lo dovete dare indietro ve lo tenete voi sì ecco peccato che se l'anticipo è troppo alto e la casa editrice con le vostre royalties non vendere abbastanza per far arrivare a livello a bolla la casa editrice lo considererà un flop e allora voi non verrete pubblicati più da livello ottone invece ce l'ha fatta ce l'ha fatta tra l'altro in meno di un anno e sta continuando a vendere perciò bene bene ok andiamo avanti con le altre domande ma questo per dire ogni tanto mi sorrido delle cose che sento ogni tanto uscire dalle labbra di altri sedicenti sedicenti insegnanti che non si sono mai trovati nelle condizioni di cui parlano sono liberissimi allora argomento interessante dice marina grazie prego alias effetti audio sandman su audible e zeppo di effetti e musiche anche troppo a mio avviso esatto la questione degli audiolibri è ha avuto questa linea di modifica nel corso degli anni all'inizio si usavano un sacco di musiche e di sound effects strada facendo ci si è resi conto che per il lungo formato quindi tipo audiolibri o cose del genere per il lungo formato se c'è una sola voce stanca un po' di più avere anche la musica e avere anche gli effetti sonori e averne tanti se è tipo l'effetto sonoro sostituisce che ne so i tre asterischi per fare lo skip in avanti nel tempo o cambiare ambientazione no assolutamente no ma e negli altri casi l'accompagnamento invece è il motivo per cui è andata riducendosi negli audiolibri ed è andata invece aumentando nei podcast i podcast si dividono in long form e in snackable sono i due estremi e poi ci sono tutte le gradazioni intermedie e fanno uso di solito maggiore più intensivo di questi effetti sonori anche perché hanno un formato più breve un formato medio medio di un audiolibro sono 10 ore 12 ore i libri più lunghi possono essere molti di più il formato medio di un podcast narrativo è tra i 20 e i 40 minuti ci possono essere podcast narrativi che durano due ore ma sono più l'eccezione che la regola i long form possono arrivare più o meno a questa lunghezza e perciò all'interno ci possono avere più effetti sonori è un effetto se vogliamo potremmo paragonarlo a alcuni effetti di affaticamento che sperimenta chi prova la realtà virtuale in modo particolare con certi certe impostazioni non voglio divagare ne parleremo in un altro Q&A più avanti quando parleremo di realtà virtuale perché anche lì c'è il mondo da sapere e da capire tra l'altro ragazzi mi raccomando non pensiate che se voi non avete intenzione di andare sulla narrativa per la voce che niente di quello che stiamo dicendo vi interessa non fatelo questo errore perché io ogni tanto vi sprono a espandere la vostra la vostra mente a vivere nel presente a rimanere aggiornati a sperimentare anche modalità narrative che non sono strettamente quella che volete in cui volete specializzarvi voi perché più spaziate più imparate cose arricchiti delle quali potrete tornare a far meglio quello che fate normalmente per capire meglio quel che fate buonasera chisci chiara qualche buona fonte da studiare per la scrittura in prospettiva audiolibri non ne esistono chiara non ne esistono ancora buonasera chiara altra chiara ho come l'impressione che rotte narrative amplierà la sua offerta per quanto riguarda i corsi chi lo sa alias chi sci ricordo da bambini i dischi sul mangia dischi che raccontavano le favole le fiabe sonore chi se le dimentica mi pare che si chiamasse a mille ce n'è si cominciava così mi pare che si chiamassero favole le fiabe sonore che fosse un abbozzo di audiolibro era un abbozzo di podcast probabilmente se vogliamo intanto per la durata se ricordo bene erano delle storie che duravano fra gli 8 e i 15 minuti erano zeppi di sound effect e c'erano varie voci che interpretavano c'era un narratore e poi c'erano le voci dei personaggi che interpretavano i personaggi stessi questa è una cosa comune nei podcast narrativi meno comune negli audiolibri però sì è probabilmente un podcast antelittera 1975 scrive Laura e per sua fortuna mi ricordo qual era la domanda a cosa era riferito ok beh sì immagino che tu ne abbia letti tanti di libri in formato scritto ok grazie Alessandra il libro scritto viene adattato per l'audio per esempio se nel testo si legge Caio gridò la voce legge tutto o mette il gridò per gridare sul serio hai capito Alessandra qual è il concetto tutti i vari ci sono delle parole che lette in un testo hanno una cosa hanno un effetto se invece le senti leggere da una voce non hanno tanto senso di esistere per esempio il sussurrare se la voce sa di dover sussurrare semplicemente sussurrerà e non avrà bisogno che il narratore poi chiosi sussurro a Carlo l'ho capito che l'ho sentito ok ci sono c'è questo tipo di discorsi e detto questo certo che il libro scritto viene adattato per l'audio il come però non è stabilizzato non c'è ancora una procedura fissa per farlo perché non c'è ancora appunto stata un'elaborazione di questo argomento se non fatta un po' diciamo le singole scuole fanno cose un po' i singoli attori adottano degli approcci un po' diversi perciò non c'è una risposta solo alla tua domanda Pier Giorgio infatti tu consigli in master editor in fase di revisione di ascoltare la lettura da word quindi sono contento che sto facendo buona cosa bravo Pier Giorgio Carlo buongiorno professore lei consiglierebbe di pubblicare il proprio libro in libreria oppure online domanda assolutamente troppo vaga Carlo una domanda troppo vaga per avere senso Thomas l'idea di mettermi a letto con un audiolibro come se qualcuno mi stesse leggendo una favola magari un libro leggero che mi concili il sonno non saprei non lo escludo proverò perché no Thomas è un tentativo ripeto non sentitevi obbligati a farlo il fatto che ci sia una opportunità un'occasione non significa che voi dobbiate per forza accoglierla non fate come gli opportunity seeker che sono quelli che vanno a caccia di guadagni facili dello schema ponzi del metodo di guadagno automatico tendenzialmente è tutta gente che finisce povera e che non non trova mai una sua direzione una sua bolla però ha senso quantomeno provare quantomeno sperimentare perché no potreste scoprire qualcosa che vi piace magari non succederà pazienza avrete provato qualcosa di nuovo fiorenza ho sperimentato gli audiolibri quando non potevo leggere letti dalle persone giuste sono un'esperienza bellissima credo però che non tutti i libri siano adatti perché è facile distrarsi allora fiorenza non tutti i libri sono adatti poi non tutti i libri sono adatti a tutti i lettori anzi alcuni sono più flessibili di altri come accoglienza di tipologia di lettore a voce alcuni libri se li fai leggere alla voce sbagliata fanno schifo anche se magari letti sulla carta erano bellissimi e perciò sì è facile c'è anche il discorso che non tutti i lettori sono adatti agli audiolibri ci sono per esempio quei lettori molto uditivi che non riescono a passare sopra al fatto che una sola voce legga interpretando per quanto bravo sia l'attore interpreti personaggi che hanno voci diverse o al contrario ci sono dei lettori cioè delle persone dei fruitori di storia che sul libro restano concentrati perché sono obbligati a compiere l'azione attiva del andare avanti sulla riga ma se gliela togli si distraggono pensano infatti loro magari vedono la cosa iniziano a pensare c'è la voce che gli parla ma si distraggono e anche questa è una cosa da sapere può succedere e non è colpa dei lettori alcune persone sono fatte così alcune persone sono fatte così magari sono anche lettori che vorrebbero seguire la storia ma fanno più fatica a rimanere focalizzati sulla voce di quanta ne facciano invece rimanendo focalizzati sulla riga per questo vi dicevo è un discorso complesso discorso da comprendere Giuliana ascolto audiolibri ogni giorno diverse ore al giorno accidenti non potrei più vivere senza ascolto mentre cucino guido faccio file pulito faccio la scelta creo bene Giuliana e allora abbiamo anche una forza assumatrice Elia io riesco a fare il sudoku mentre audio leggo riesce a tenere il filo anche con la narrazione complimenti Thomas da optometrista posso confermare l'importanza della vista spasmi accomodativi e molto altro mi sono già trovato a consigliarlo a qualche mio paziente interessante Vir per mia personale esperienza da lettrice per audiolibri ho compreso che l'ascolto di una storia per molti è soggettivo perché dipende da tante cose oltre al testo la voce e il suo stile di lettura è verissimo è verissimo ecco vedi abbiamo anche un professionista del settore Pier Giorgio ci fa per noi la ricerca e dice che audible il primo mese è gratuito poi 9,99 euro al mese io lo uso dal 2019 anche io mi sa che è dal 2019 che sono abbonato è una di quelle cose di quegli abbonamenti che mi dimentico di avere e poi ogni tanto quando mi serve mi dico ah sì ma io ce l'ho audible fammelo usare recentemente ho ridotto il mio consumo purtroppo molto il mio consumo di audible e di audiolibri perché romanzi storici saggi da studiare tanti sempre per aiutare chi ascolta continua Vir nel caso di dialoghi cerco di dare tono intonazione e modulazione proprio come ha detto e come ha giustamente detto lei si necessita della sospensione dell'incredulità eccetto quando posso realizzare interpretazioni con colleghi creando multivoci ecco Fiorenza interviene l'amica geniale in audiolibro è un ascolto che non si riesce a mollare meraviglioso e da dipendenza sono d'accordo io l'ho proprio molto molto apprezzato e stavo facendo un trasloco mentre lo facevo l'avevo audioletto un 4 anni fa 4 5 4 4 si sono da 4 anni nella casa attuale ed era non pensavo che mi avrebbe tenuto una così buona compagnia a volte rallentavo nel preparare gli scatoloni per ascoltarne un po' di più di nuovo Vir in merito alla scrittura se non erro esistono manuali per la scrittura del radiodramma e non per l'audiolibro in sé sì certo allora cos'è il radiodramma ragazzi il radiodramma è l'antesignano del podcast che è quindi podcast e non audiolibro ed è è nato sulla medium radiofonico perciò non esattamente quello che c'è oggi ma molto di quello che oggi è il podcast deriva dal radiodramma testi sui radiodrammi li ho letti li ho letti comunque hai ragione mi sono dimenticato di citarli ma sì per la resa in voce a me hanno insegnato il concetto di sottotesto per la ricerca di intenzione oltre alla sensibilità e all'analisi che facciamo cioè esatto esatto bravissimo Alessandra l'autore può essere un regista per l'attore che legge e dargli le sue indicazioni su come vuole che il libro venga letto e interpretato sì Alessandra a patto che sappia che cosa gli deve dire Chiara riguardo alle differenze di stile si potrebbe affrontare durante un line editing bella domanda non lo so forse sì potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea magari più avanti proviamo a fare qualcosa del genere ah ok Vir conferma sì sono una ragazza allora userò il femminile Elia ma l'adattamento agli audiolibri porterà quindi a riempire di disse e simili i romanzi buoni non è una domanda sciocca Elia comunque mi sta interessando questo argomento non avevo mai visto gli audiolibri in questi termini lo so lo so infatti non vengono considerati non so come mai è come se fossero una cosa aliena alla scrittura ma no non lo sono guarda un po' è vero è vero e la questione che dici dei disse in certi casi nella voce sono non dico necessari perché non è che siano necessari ma possono essere molto utili e perciò mi pare che tu sia uno studente dello scrittore speciale Elia tu sai come la penso io degli speech tag poveri tipo gli disse non mi piacciono se si possono evitare io li evito sempre e anche nei nei vari line editing mi avete visto mi li avete visti espungere una miriade di volte per la voce non sempre ma a volte sono necessari quasi per gli audiolibri chiede Veronica in terza la terza persona sarebbe da evitare sarebbe strano sentirlo parlare di sé in terza persona forse risulterebbe troppo estraneante allora qua mi avventuro in un terreno su cui sinceramente preferirei che ci fossero più diciamo voci non dico autorevoli perché non è questione di autorevolezza però che ci fosse più ricerca fatta in merito di quanta effettivamente ce n'è perché è un terreno inesplorato e io non ho letto così tanti audiolibri così continuativi nel tempo e così vicini al momento presente di adesso in cui ve ne parlo da dirvelo con una certezza assoluta perciò prendete questo che vi sto per dire con beneficio di inventario nel senso che alcune persone con cui sto parlando in questo periodo mi confortano questa teoria mi corroborano questa impressione che io ho però potrebbero esserci delle eccezioni e questa impressione che io mi sono fatto è semmai il contrario la prima persona al presente risulta più straniante in audiolibro che di quanto non lo sia in forma scritta ci sono già molti lettori lo sapete che trovano faticoso leggere in prima persona perché se la sentono troppo addosso se la sentono fanno fatica e oppure la trovano finta artefatta ebbene pare che questa percentuale che non è irrilevante per la prosa se si parli di prosa letta ad alta voce si allarghi ancora di più e questa ripeto questa è la sensazione che ho io e che però appunto mi è stata confortata da persone con cui ho parlato chiediamo anche a Vir visto che è del settore cosa ne pensi lei invece la terza persona in modo particolare al passato remoto ha un po' quella distanza minima dal testo che permette alla voce che ti racconta la storia di essere un po' più risultarti un po' più naturale il fatto che ci sia una persona che ti racconta una storia beh è naturale che sia una storia accaduta del passato del passato perciò il tempo passato forse si presta meglio per la lettura ad alta voce rispetto al tempo presente e come vi dicevo prima la prima persona al passato remoto è molto bella da ascoltare secondo me è più bella notevolmente più bella da ascoltare che da leggere la terza persona passato remoto da ascoltare senza problemi direi di nuovo non basta però che sia una terza persona al passato remoto conta lo stile non è stile terza persona è una persona narrante lo stile è ben altra cosa chiara è possibile che una differenza si noti più sul lungo termine con potenziali ascoltatori di audiolibri che si approcciano a nuove opere di autori che hanno conosciuto tramite audible storie dal chissà non ho capito la domanda è possibile che una differenza si noti più sul lungo termine con potenziali ascoltatori di audiolibri che si approcciano a nuove opere di autori che hanno conosciuto tramite audible lo storytell chissà e non so a cosa ti stavi riferendo chiara perciò non ti so rispondere Laura sì ho sempre letto tanto a parte qualche anno in cui ho letto meno viaggio sui 50 70 libri all'anno e beh sì sei una lettrice decisamente forte Laura e il fatto che una lettrice decisamente forte della tua generazione della generazione di mio fratello maggiore abbia difficoltà riferisca delle difficoltà nella transizione nel provare gli audiolibri ok me la metto lì da parte raccolgo degli altri dati in futuro tornerò con delle risposte un po' più dopo aver raccolto più dati alias da qualche mese sto producendo un podcast con i miei racconti so di non essere né un autore né un attore bravo ma molte delle cose che stanno venendo dette mi sono state riportate dagli ascoltatori e mi fa piacere Stefano ipotizzo che il TEL in un audiolibro aiuti la comprensione perché a differenza della lettura non c'è la completa attenzione del lettore che guida pulisce eccetera può darsi che ci sia anche questo anche questo fattore Elia se non è roadibolo adesso ha un'offerta dove hai i primi tre mesi gratuiti o perlomeno c'era fino a poco tempo fa non lo so Stefano aggiungere ai dettagli dei processi sono come delle stampelle ah aggiungere ai dettagli dei processi sono come delle stampelle di flusso informativo per chi divide l'attenzione vero Stefano e infatti hai colto una delle fra uno stile pensato per il libro e uno stile pensato per la e cioè il livello di attenzione medio che potete aspettarvi da parte dei fruttori delle storie che è diverso e questo ha delle ricadute sul modo in cui si scrive bravo hai avuto una bella intuizione Stefano nel senso che è vero nel senso che l'hai scoperta tu ma che hai intuito giusto Anna l'audiolibro non permette l'immaginario soggettivo sulla scena che si legge perché la guida all'immaginario è la voce esatto che si ascolta questo ogni lettura cartaceo o ebook è meraviglioso certo sì bene non che lo sia necessariamente meno l'apporto che la voce ti dà la differenza chiaramente è che vieni lasciata da sola a compiere questa operazione quando sei tu a leggere su una pagina di prosa mentre questa operazione è assistita è accompagnata quando hai la voce di un attore che ti racconta la storia il fatto che sia di nuovo un plus o un minus dipende chiaramente dipende da quanto l'attore è bravo da quanto c'entra la sua voce con la storia da dove fa soffermare la tua attenzione ti ripeto ci sono a me è capitato e era capitato anche a qualcun altro prima di ascoltare la lettura di un mio brano letto da professionisti della voce e di avere una reazione di assoluta meraviglia noi che l'abbiamo scritto quindi con una diciamo percezione della storia piuttosto ricca piuttosto personale l'assistente letta da un attore professionista resti lì così non fermarti vai avanti voglio sapere come va avanti perché è un'esperienza diversa perché l'apporto della voce si può arricchire dipende non è detto che succeda a volte è un macello va detto anche questo mi è capitato di ascoltare degli atti veramente di bassa macelleria fatti su testi su testi ottimi una particolarità una curiosità per voi i libri scritti in passato si prestano con più facilità a una riduzione in audiolibro perché hanno più tell banalmente sono cose curiose sono cose interessanti da capire da sapere certo poi ovviamente cadono su cose che hanno a che fare con gli sviluppi narratologici che oggi ci sono e che un tempo non c'erano e quelle non li hanno chiaramente sofia anch'io sarei interessata a online editing che si soffermi sulle differenze stilistiche per audiolibri grazie per tutto il suo lavoro professore vir tante volte noi narratori dobbiamo essere registi di noi stessi salvo quando gli autori riescono a spiegare cosa vogliono e immagino che non sia facile mi è successo però di dover spiegare che alcune cose non erano realizzabili e questo è molto interessante Anna Maria naturalmente per chi non può usufruire della vista l'audiolibro è un diritto naturalmente questa è la mia personale esperienza in quanto preferisco usare il mio senso visivo per ora certo certo sì sì ma lo ripeto ragazzi io in nessun modo sto cercando di tessere l'elogio dell'audiolibro sopra la narrativa scritta figurarsi io conto di continuare a scrivere romanzi e di continuare a scriverli per la forma scritta prevalentemente esisterà uno stile ibrido fra l'uno e l'altro eh chi lo sa però appunto quello con cui quello che volevo fare con questa con questo Q&A è iniziare a sbocconcellarvi qualcosa per intanto per prima di tutto farvi ampliare un po' lo sguardo per ampliare un po' l'orizzonte visivo percettivo su delle questioni che non abbiamo ancora mai trattato ma in generale non le ha ancora mai trattate approfonditamente sul serio nessuno nessuno che io conosca che io abbia sentito li ho cercati ho cercato attivamente dei corsi per che insegnassero a fare meglio questa cosa che Vir ci sta dicendo che gli autori spesso non riescono a a spiegare che cosa vogliono che indicazioni dare al lettore all'interprete Vir esatto per molti la prima persona al passato coinvolge molto perché dà la sensazione di avere il personaggio vicino a sé esatto o la terza persona come un narratore che rievoca la storia ma come lei ha giustamente detto dipende molto da come è scritto il testo e da come la voce lo rende verissimo i classici sono i cavalli di battaglia quindi ragazzi vi ricordate quante cose abbiamo detto sui classici i classici per gli audiolibri sono ottimi Alessandra a parte le favole in cassetta ci sono narrazioni audio pensate apposta per l'infanzia se sì come sono posizionate sul mercato non lo so non ho fatto ricerche specifiche in merito controlla sicuramente ci sono Giuliana quando mi dedico anche ad altro per esempio alle pulizie riesco a mantenere perfettamente la concentrazione sull'audio quando invece non ho da dedicarmi ad altro che all'ascolto tendo a distrarmi in quei momenti infatti preferisco la lettura tradizionale capita anche a me Giuliana sai a me in passato cosa è capitato di fare che quando dovevo fare dovevo continuare un audiolibro e mi accorgevo di non aver più cose con cui tenere impegnate le mani gli occhi uscivo e camminavo con l'audiolibro nelle orecchie che andava avanti e facevo un po' di movimento un po' di sport ho anche fatto ginnastica facevo un po' di palestra con l'audiolibro nelle orecchie e l'audiolibro chiede Alessandro Alessandra può funzionare bene in una narrazione a bivi? c'era qualcuno che aveva fatto un esperimento del genere non mi sono informato perciò allora potenzialmente la seconda persona può funzionare con l'audiolibro può funzionare molto meglio che non la seconda persona nella prosa scritta potenzialmente perché c'è una voce che parla con te quanto spesso ti capita di sentire qualcuno che ti parla e ti dice tipo tutti i giorni quante volte ti capita su un testo scritto con l'esperienza di però di una riga che ti si rivolge direttamente giusto nelle nelle pagine di vendita nelle sales page nelle pubblicità ehi tu sì dico a te è uscito il nuovo elettrodomestico ok lì sì c'è una seconda persona però non è un'esperienza reale invece una persona che ti parla in una storia a bivi in seconda persona non lo so ripeto questa è una pura speculazione non ne ho idea sarebbe interessante esplorarlo Vir concordo per me è un'esperienza di immersione diversa dalla narrativa e entrambe sono necessarie e importanti bene bene abbiamo aggiunto delle conferme alla ricerca che sto portando avanti in questo periodo professore chiede Franz per un self c'è un modo intelligente di considerare l'audiolibro a che volumi di vendita vale la pena considerare una trasposizione è un'ottima domanda preferisco non darti una risposta almeno non subito Alfonso anche nell'ambito degli audiolibri i romanzi storici sono letti di più degli altri generi non ti saprei dire se siano letti di più non ho fatto una ricerca sulle nicchie di mercato degli audiolibri non queste le lezioni a scrivere romanzi storici a scrivere perché è un settore in espansione ed è un settore perché gli studenti di rotte narrative che tendenzialmente sono sulla cresta dell'onda tendenzialmente non tutti ripeto anche fossero solo il 30% il 40% ha senso che io vi metta a disposizione delle cose dei contenuti formativi per fare meglio le vostre strategie e essere ancora una volta i leoni sul mercato quelli che sono avanti rispetto agli altri invece di starli a raccontarsela da si stava meglio prima della crisi ma va grazie invece sono pronti a reggere botta oggi vir sì esistono delle piccole case editrici che si dedicano solo a fiabe e testi per bambini ah in audio lettura ecco addirittura case editrici specializzate interessante chiara di recente ho seguito un webinar sugli audiobook ovviamente in inglese da un relatore a che è di p e ho avuto la netta impressione di una grande differenza di mercato fra colofono e italiano ma con grandi possibilità se il mercato italiano seguirà l'andamento di quello anglofono chiara il mercato italiano segue sempre quello anglofo sempre e mi ricordo una volta che parlavo con una importante rappresentante di una casa editrice big che però aveva un approccio molto disincantato molto critico della sua stessa realtà e diceva che in Italia noi capiamo le cose sempre con quattro anni di ritardo in editoria in Italia noi copiamo l'America ma sempre con quattro anni di lag ci arrivano le stesse cose ma quattro anni dopo nell'editoria in realtà è un aneddoto vecchio però per ridere e sì comunque è una cosa che è più o meno inevitabile quando arriverà anche il boom già comunque c'è è vero che non è lo stesso volume e la stessa diciamo lo stesso grado di penetrazione nelle realtà strutturate però è inevitabile che succeda succederà breve questo vi dicevo in apertura che è una questione che adesso sta iniziando ad essere dibattuta tanto ma è una situazione che non è minimamente capita non è minimamente compresa e non è e soprattutto non è minimamente sfruttata per questo che è interessante come settore ancora un paio di commenti ragazzi poi stacco perché sono stanco vir in merito al mostrare le differenze di tono intonazione eccetera a me capita di farlo mentre propongo lettura e chatting in diretta ed è bello far notare le varie possibilità di interpretazione io realizzai quattro anni fa un audiolibro interattivo purtroppo non piacque in quanto non era una storia lineare ad oggi chissà ecco vedi vir se vuoi manda una mail a info chiocciolarottenarrative punto com credo che sia e così stabiliamo contatto e se vuoi raccontarci un po' la tua storia a me farebbe piacere saperne di più alessandra ho idea che l'audiolibro a bivi possa essere un'esperienza davvero immersiva ripeto niente di più facile non lo so dovrei provarlo un po' di diffusione di podcast e audiolibri è recente ma non è sfruttata e si fa fatica ancora eh sì ma è questione di tempo secondo me è unicamente questione di tempo va bene ragazzi chiudiamo qui per stasera questo q&a vedete che sono riuscito lo stesso a trovarvi qualche argomento interessante anche in questa torrida notte estiva di agosto io vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale di rotte narrative lì sotto c'è un pulsantone con scritto iscriviti e lì accanto c'è una campanellina da cliccare adesso se la cliccate vi usciranno le notifiche quando sul cellulare quando pubblicheremo dei nuovi video così vedrete subito il titolo e potrete capire subito quando parleremo ancora di cose super interessanti come queste se non lo avete ancora fatto iscrivetevi anche alla mailing list così sono contenti i miei membri del mio staff che amano vedere crescere il numero degli iscritti non so quanti siamo ma 5.000 una roba del genere comunque non è mai abbastanza perciò bravi continuate così continuate a darci dentro a studiare espandete la vostra visione ma sognate con i piedi per terra ciao a tutti da Livio Gambarini buonanotte grazie a tutti grazie a tutti